Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, siamo qui su Pausa Caffè per una nuova news, ma prima di partire vi ricordo che potrete iscrivervi al canale e se non l'avete fatto, attivare la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video, oppure seguire la pagina se parliamo di FB. Vi ricordo inoltre che potrete lasciare un bel mi piace che al canale aiuta veramente tanto, o commentare e dire la vostra qui sotto, o semplicemente condividere con i vostri amici. Sembrava dovessero esistere solo due tipi di infortuni, quelli traumatici e quelli muscolari, ma da ieri sappiamo che esiste una terza tipologia, gli infortuni di mercato. E alla provocazione fatta dall'allenatore del Napoli Rudi Garcia dopo la vittoria per 1-0 nell'amichevole con l'Augsburg per spiegare le tante assenze di titolari importanti e lanciare qualche frecciata ai suoi giocatori. Il Napoli ha giocato con parecchie seconde linee e qualche giocatore fuori ruolo, come Ostigard che per mezz'ora ha fatto il mediano, ma Garcia ha chiarito, di veri infortuni ne abbiamo due, Mario Rui e Anguissa, poi ci sono anche infortuni di mercato. Il tecnico francese fa nomi e cognomi. Su Zilinski si limita a dire, siete intelligenti, non ho nulla da dire di più mentre si dilunga su Osimen, anche egli come il polacco attratto dai soldi arabi, ci sono giocatori che sono a fine carriera e allora si può capire che vanno lì. Qualunque persona nel mondo non rifiuterebbe queste offerte indecenti a volte. Però quando sei un giocatore in piena maturità, che le tue stagioni più belle arrivano, non guardi neanche questo. La stessa cosa che ti propongono oggi te la posso proporre anche tra 3-4 anni. Non sono Victor, quindi chiedete a lui. Bisogna continuare sul lato sportivo e dimenticare le sirene arabe. Fioccano le reazioni, quelli non convinti di restare vanno accompagnati all'uscio e sostituiti con giovani di talento affamati di vittoria. Quindi io direi di assecondare l'avida volontà di Ozymen e Zilinski, eppure lo zanno adesso, onde evitare altri casi all'anzi e poi, con tutti quei soldi fai uno squadrone stellare. Il mercato si fa anche a gennaio. Io non credo che dobbiamo tagliarci le vene. C'è chi scrive, vendere Ozymen oggi punto al 7 luglio a 200 milioni, vuol dire accettare di farsi prendere alla gola non appena vai a chiedere il suo sostituto. A meno che non abbiano già l'alternativa in tasca, ADL non penso che farà questa scelta e poi, purtroppo questi arabi possono tirar fuori 200 o 300 milioni da un giorno all'altro senza problemi. Per noi tifosi è sfiancante, ma la situazione è questa. Il web è scatenato e si inserisce anche Enrico Variale che su Twitter scrive, gli arabi fanno quello che per decenni hanno fatto i club europei con il Sud America, saccheggiando i migliori talenti. Non mi scandalizzo. Poi Sezilinski ha 30 anni rifiuta ingaggio da 15 milioni a un eroe. Diverso il discorso per Ozymen nel pieno della sua carriera. Infine la chiosa ironica, solo a Napoli potevamo inventarci il rinnovo sospeso. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.